ehi salve a tutti ragazzi siamo in questo mezzo di pochino sperando che vi viene detto perché siamo di nuovo qua giustamente per affrontare di nuovo la quizzoteca qualcosa di osserva tanto come ha scoperto che ero nascosto in questa credenza semplicente così qui per sfidare la mia quizzoteca vero per cui sei qui vero non si deve accettare la tua sfida passa da questa parte con la pecca mi ha iniziato a sfida bla 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 la zona del blu si ultiamo io i nostri cosi che erano pure presenti nella palestra ti cosi qua le sbarre dato non puoi manco correre la c'è una eh madonna che fai potremmo voler lasciar loro il messaggio cazzo per la cazzo ve lo uccidiamo la lotta contro gli allenatori avevo detto che almeno non ve lo uccidio la lotta sia contro i capo palestra che contro i cosi no che contro i capo del team vita e team marcia ma quanti per il pello inizia a farsi difficile perché a livelli del programma degli allenatori stanno aumentando infatti te li sto partendo tutti con oddlash stranamente non so perché anche di non imparare o non da sciocchi anche certo eh si wow da piccolo l'avevo pure sotto oddlash stranamente ah io ho perso eh atto oddio mangiare ok di qua non abbiamo ancora la cotta per il zaino ok quando ho saputo questo sono voto lo dovrò prenderlo il ranger è il pokemon ranger rosenia ma che nella quarta generazione si era messa l'evoluzione di rosenia compresa la pre-evoluzione ha usato ricaricato da noi ok ho detto un allenatore in gamba probabilmente otterrà anche l'ultima medaglia e uscirà anche alla lega pokemon intanto penso che ci siamo comunque avvicinando al finale quindi vi ringrazio vi ringrazio a tutti voi per stare seguendo stasera i campi di pokemon smeralda eh credo che magari più in avanti potrei portare anche la serie campi di pokemon del foglio eh ok la pergamino più che le quizzote che durano così poco eh ok dai ok oddio quattro minuti venti ma come ce l'hai fatta raggiungermi mh sei intelligente ci ho messo tutta la nota per installare quelle volte se cosa è il mio livello bene bene ho sempre dato questo il calamito ma poi pure peccateva nel culo così cosa è quella di sardina ironica ancora penso che fanno l'editorio mi metterò nuovi trucchi per fermarti le gatti mi dobbene che ti dà tutto ma non posso sapere sdietta e questo sì e probabilmente sarebbe l'ultimo ok dai questo episodio credo che si chiamerà la penultima custodega non so sì dai mi credo che nel prossimo episodio credo che andremo a cenere video credo qua non lo so quale è la prossima vetta su questa serie che anche è quindi ragazzi tende a più anche queste visioni si può calmeranno la vostra dove essere è tutta e ci becchiamo alla prossima ciao 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 ciao